Cigarini, Pinia forse tocca con un braccio a capelli, Pallega rimane lì e Pinia sblocca il risultato, l'Atalanta in vantaggio, 1-0 in favore di Bergamaschi, al quinto minuto di gioco la rete di Pinia. Pallone deviato per rovesciata e pallone in rete, tanto per cambiare, segna solo così Maurizio Pinia, 2-2, incredibile gol di Pinia, anche in questo caso una sforbiciata volante.